Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo video. In questo video parleremo di tecnologia e di fatti vi parlerò dell'iPhone 6. L'iPhone 6 della Apple. Oh, che parola fantastica. Ma andiamo avanti. Cominciamo col dire che l'iPhone 6 è più grosso, più duro e più lungo fisicamente del suo predecessore, ovvero l'iPhone 5. Oltretutto, come potete vedere, ha anche una mela molto più grossa. Partiamo con elencare 6 caratteristiche dell'iPhone 6. Numero 1. Il richiamo degli alieni. L'iPhone 6 riesce a chiamare, a contattare e a stabilire un contatto con gli UFO, ovvero gli alieni, cosa che nessun altro cellulare attualmente riesce a fare. Quindi adesso cercherò di contattare questi alieni e farveli vedere già direttamente e contattarli ovviamente e farli venire qui in forma pacifica. Numero 2. Intercettazioni spirituali. L'iPhone 6 viene usato anche dai ghost hunters per captare le entità plasmatiche dei fantasmi e stabilire un contatto con loro. La persona fa una domanda e tramite l'iPhone 6 il fantasma risponde. Oh, che fantastica idea! Quindi adesso facciamo questa prova. Io parlerò su questo iPhone 6, farò una domanda e il fantasma se c'è risponderà e l'iPhone 6 lo capterà e sentirò la voce e la risposta del fantasma. Se ci sei batti un corpo. Ma che cazzo? Ma... ma scusa ma funziona quest'iPhone 6, porca puttana! Numero 3. Finalmente fai il caffè. Alleluia! Finalmente un cellulare che riesce a farvi il caffè di prima mattina. Cosa state a fare al bar? Di fatti il caffè dell'iPhone 6 è sei volte migliore di quello del bar. Ecco perché il nome iPhone 6. Fa molto cagare. Cliccate un bel mi piace per l'iPhone 6. iPhone 6 e finalmente caghi nero. Numero 4. Il bianco e nero torna di moda. L'iPhone 6 ha lo schermo in bianco e nero invece che ha colori. Per non farvi rovinare gli occhi con le migliaia e migliaia e migliaia di svariati di centinaia di migliaia di colori che hanno gli altri cellulari. Così potete rilassare e far riposare la vostra vista. Che invenzione fantastica l'iPhone 6. Yuppie! Numero 5. Internet non è tutto. L'iPhone 6 non riesce a collegarsi a nessun browser e non riesce ad entrare in nessun sito tranne che nel sito più importante. Yupporn. iPhone 6. Che birichino! Numero 6. Lo stile dell'iPhone 6. Per lo stile dell'iPhone 6 abbiamo creato migliaia e migliaia di mascherine. Potete scegliere tra svariati diversi colori. Nero, nero e poi anche il nero. Avete l'imbarazzo della sciolta. iPhone 6. E ti salva sempre la vita. Vabbè, è insana. Ho creato l'iPhone 6 pensando a tutto quello che all'umanità non serviva. Così da contraccambiare a quello che invece serve e rendere inutile il tutto. E quindi passando per un intelligentone. Tutto quello che ho fatto è alla fine prendere l'iPhone 5, metterlo dentro l'iPhone 6 e farlo più grosso. Cioè tutto qua alla fine non cambia niente. Per le misure dell'iPhone 6 ho usato la misura del mio pene. Mentre invece per la misura dell'iPhone 5, ovvero il suo predecessore, ho usato la misura del pene del mio cane. Tutto qua. Con questo è tutto e ci vediamo al prossimo video. E se non siete ancora iscritti, raga, iscrivetevi a questo canale, mettete mi piace, condividete, commentate e guardatevi questi video qua.